l'italiano venire qui all'olimpico con tante facce nuove una formazione che non era mai stata insieme e fare quel approccio significa che tutti gli uomini a sua disposizione hanno un certo tipo di mentalità sì è stato dimostrato questo è stato dimostrato che il lavoro che si fa con tutti porta dei frutti oggi c'erano tanti debuttanti una formazione che non aveva mai giocato insieme e penso che l'approccio come detto te è stato straordinario poi è normale soffrire contro una squadra come la roma contro anche tutte le difficoltà che può avere un giocatore che non mette piede in campo da tanto tempo però vincere in questo modo penso che va dato va dato merito ai ragazzi perché non mollano ci credono ed è un periodo per noi molto positivo è la vittoria di un progetto di calcio è la vittoria ad un lavoro settimanale che si fa con quasi 30 ragazzi che poi chiaramente l'allenatore pretende di vedere quello che si fa durante le partite da da tutti perché tutti a tutti viene spiegato quello che bisogna fare poi anche un pizzico di buona sorte ci sta aiutando però sono contento dell'applicazione di quello che fa sia chi è il presunto titolare sia chi non ha giocato da tanto tempo quindi da questo punto di vista siamo felicissimi quanto le servirà questa serata per la preparazione della partita di sabato in campionato è chiaro che sia per noi che per per la roma vedere cosa ha funzionato cosa non è andato perché chiaramente ci servirà questi due giorni per perfezionare qualcosina che abbiamo sbagliato perché abbiamo fatto un bel po di errori altre cose fatte bene in questo momento credo che affrontare la roma sabato in campionato con questi risultati positivi per noi sia un'ottima cosa soprattutto a livello mentale grazie